I militari della stazione di Carabinieri di Ortigia in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizioni dell'ASP e con la Polizia Municipale di Siracusa hanno svolto controlli agli esercizi di ristorazione sul litorale Reduseo che dopo il lungo periodo di chiusura, dovuto ai vari livelli di lockdown, hanno ora riaperto con cospicua affluenza di pubblico. I controlli di natura amministrativa erano volti a verificare che i ristoranti garantissero agli avventori le previste condizioni igienico-sanitarie sia delle strutture sia degli alimenti. In quest'ambito una nota attività di ristorazione del litorale è stata chiusa a seguito delle numerose carenze igieniche, sanitarie e amministrative riscontrate durante l'ispezione. Il personale ispettivo ha rilevato che mancava la segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta scia, per la cucina e la zona preparazione pasti allestita sotto una tettoia e che alcuni alimenti erano depositati all'aperto anziché nei previsti luoghi refrigerati. Alcune strutture della cucina inoltre non erano adeguate all'attività e nessun manuale di autocontrollo HACCP era stato implementato al ristorante, il cui personale non aveva peraltro ricevuto la prevista formazione per coloro che sono addetti alla manipolazione degli alimenti. Le violazioni hanno comportato l'adozione da parte del Sian di un provvedimento di chiusura immediata dell'attività al quale seguiranno inoltre alcune sanzioni pecuniari ammontanti a varie migliaia di euro. Il ristorante potrà ovviamente riaprire dopo che avrà sanato le problematiche riscontrate. Grazie a tutti.